quello che diventiamo dipende dalle esperienze che facciamo esplorazione narrazione interattività giochi di ruolo creatività cooperazione e poi interrogare piante fossili dinosauri e ripassare magari viaggiando tra le stelle oppure all'interno di una serra tropicale per toccare smontare e rimontare la conoscenza le proposte per le scuole si ispirano ai principi dell'educazione informale e il musee si propone di offrire a voi docenti spunti emotivi di approfondimento e di completamento del vostro lavoro per favorire integrare far vivere l'apprendimento cresci con la scienza scopri le attività per la scuola